e con il tuo spirito 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 si domandava ma sapere se non sono il tuo questo mi angelo non ne è non te ne è non te ne è perché ha provato un brazzo al suo dio e vedendo ci vedai un mio figlio ma davvero ci vedai un figlio ci vedai un figlio Il Signore, Dio, che riferai in ogni comunità di Gesù Padre, regnarai sempre nella casa e nella coppia, e il suo regno di nonno di oggi. Allora la regina di Satana, come avrà la testa, perché non conosco l'uomo? Le risposte è l'angelo. La spiega di totale, non scenderà giù di te, e la vedessa che non conosco, che non conosco l'uomo. Perciò, quando viene a scelare, sarà il Santo, che stava chiamato a figlio di Dio. Ed ecco Isabel, tua parente, nella sua ricerca, e che consomigliano questa un primi nozzi. E questo è il sesso messo per lei, che era legistretto. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse, ecco la Sagra del Signore. Avvenga per questo un'altra parola, e l'angelo saluto a noi da te. Parola del Signore. Grazie. 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 Grazie.